Un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini Weekend e noi ci troviamo al Community Center di Oxfam in Via Isonzo ad Arezzo perché ci siamo. Una bellissima iniziativa che è partita proprio da qui, da Oxfam, in collaborazione con Confesercenti, tante associazioni di categoria, associazioni del territorio aretino, l'amministrazione comunale. Un'iniziativa insomma dicevo che sta per prendere vita, Sayone Mob in programma per domenica 22 maggio è partito da qui, da questa location in cui ci troviamo. Intanto io saluto le ospiti che sono accanto a me, Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti Arezzo, Silvia Ciarpaglini, direttrice artistica di Sayone Mob e poi ci spiegherà anche il suo ruolo all'interno di Oxfam. E poi Elisa Carbone che è responsabile dei progetti educativi inclusivi dei programmi di Oxfam Italia. Intanto Elisa ti chiederai dove ci troviamo, fai un po' gli onori di casa di questa location. Grazie Laria, siamo in via Esonzo, proprio nel cuore del quartiere di Sayone dove assede la nostra community center che è un presidio proprio del territorio e che fa parte di una rete di altre 12 realtà a livello nazionale, di realtà dove offriamo servizi di inclusione, servizi di informazione per le fasce più vulnerabili. Quindi siamo uno sportello aperto per le persone, per le famiglie, proprio per dare informazioni, consulenza, per favorire l'inserimento lavorativo, sociale, e sostenere le famiglie con i minori per tutti i servizi che riguardano gli aspetti educativi, sia dai nidi fino alle scuole superiori e tutte le opportunità anche di formazione. Quindi svolgiamo un servizio a sostegno delle fasce più vulnerabili, ma non solo, proprio perché anche lavoriamo in un'ottica di cittadinanza attiva e quindi siamo soggetti promotori che lavorano nel territorio e in collaborazione con scuole, realtà associative, ente locale per promuovere contesti di partecipazione, di valorizzazione anche delle realtà che insistono nella nostra città, in particolare ad Arezzo. Elisa, intanto grazie per questa introduzione che ci fa comprendere anche la dimensione nella quale questo progetto è nato, quindi per rivitalizzare sicuramente il quartiere di Sayone, ma anche per dare voce a questo tipo di progettualità che ci hai appena spiegato. Silvia Ciarpaglini, che ad Arezzo è anche la madrina del mercatino delle Pulci, è dietro anche all'organizzazione, come abbiamo detto, di Sayone Mob. Una direzione artistica improntata su cosa e qual è stata la genesi di Sayone Mob, Silvia? La genesi sostanzialmente è il mio ruolo dentro ad Oxfam, che mi vede consulente del welfare di prossimità, quindi io credo che quando si parla di welfare di comunità, un quartiere come Sayone esprima veramente proprio il massimo. Sotto questo aspetto ci faceva piacere però metterlo estremamente in risalto, perché qui siamo in un quartiere che è stato molto nei giornali per un'immagine comunque negativa, quando in realtà la nostra percezione è di un'estrema forza e ricchezza. Chiaramente poi abbiamo lavorato sostanzialmente tanto nel quartiere quanto nella scuola, perché poi non ci dobbiamo dimenticare di dire che il cuore pulsante di tutto l'evento è la scuola aperta, eccezionalmente di domenica, così come eccezionalmente aperti saranno i negozi e tante altre realtà. Tutto questo però viene da due progetti finanziati dal Fondo contro la povertà educativa con i bambini, che sono mentori per la resilienza e bella presenza, che entrambi ci hanno consentito di lavorare molto sul protagonismo giovanile, proprio attraverso le reti di prossimità e quindi a un certo punto avevamo sinceramente bisogno di una festa per far vedere tutto il lavoro che era stato svolto negli anni precedenti. Bene, quindi una festa che vede protagonisti anche tutti gli esercenti, tutti coloro che poi in questo quartiere portano la loro attività e che fanno da contorno alla vita sociale. Valeria Aldisi, Confesercenti, ha creduto fin dall'inizio in questa iniziativa e l'ha sposata. Sì, questa è un'iniziativa che è nata da questo incontro virtuoso, tra la proposta di Oxfam e le idee che comunque come Confesercenti già avevamo da prima della pandemia, che poi purtroppo avevamo dovuto tenere un attimo a stand-by perché non era possibile organizzare nulla. Quindi nel momento in cui ci siamo incontrati ecco ci è sembrato proprio l'ideale sia il quartiere sia proprio il tipo di collaborazione che si andava a improntare perché le feste di strada le facciamo, le continuiamo a fare e sono sicuramente come le abbiamo fatte anche a Saione in passato. Ma questa è una cosa ulteriore, cioè ha una ricchezza di partecipazione, di componenti assolutamente secondo me inedita. Vede la partecipazione di tantissimi soggetti, credo veramente sia il primo evento così tanto partecipato da così tanti soggetti e quindi è stato proprio un incontro felice. I commercianti, i pubblici esercizi del quartiere sono una rete fondamentale e importante perché comunque le vetrine accese, lo diciamo sempre, sono quelle che rendono vive le strade, ti rendono vive il quartiere, che servono per la sicurezza, servono per il servizio di prossimità perché non ci dimentichiamo che comunque il servizio di vicinato è fondamentale per le famiglie, per i residenti altrimenti diventano dei quartieri, come dire, appunto dove dormitorio, dove non si trova nulla di interessante da fare invece Saione è ancora un quartiere e secondo me lo diventerà sempre di più in cui c'è una ricchezza enorme di offerta anche dal punto di vista commerciale, oltre che sociale e culturale. Allora, noi siamo curiosi di condividere con i nostri telespettatori il programma di domenica 22 maggio perché ci saranno iniziative davvero di vario genere per tutte le età, per tutte le passioni, gli hobby ci saranno anche momenti di ascolto verso la cittadinanza promossi dall'amministrazione comunale ma insomma Silvia Ciarpaglini può dirci tutto, intanto lo citavamo prima, non poteva mancare ecco il mercatino delle pulci, lo facciamo vedere Sì, non poteva mancare perché chiaramente è nato a Saione, c'è nato e cresciuto del resto come me quindi non a caso era stato portato lì e siamo felicissimi di tornare in città dopo sei anni quindi per noi è anche una gran festa in questo senso devo dire però che ripeschiamo qualcosa che c'era già allora a Campo di Marte che è proprio il rapporto con tutte le associazioni e infatti spero di ricordarmi davvero tutto perché sono tantissime, siamo più di 30 in tutto però dentro alla scuola tutto il giorno vedremo Cicciottà a cura del Circolo Baobab pratica con quei bravi ragazzi e le Lego il torneo di scacchi amatoriale del Cassa del Pionta abbiamo il Pastadei in Via Guelfa la mostra e la sessione di fotografia antica in Piazza Zucchia cura della Sbilenca con il mercatino del Velocipide di Beneficenza la mostra di Mago Collettiva che raccoglie 76 foto sul quartiere di Saione e tante altre piccole iniziative perché poi c'è da dire appunto che tutte le associazioni porteranno in strada i propri banchi, la propria raccolta fondi e ci tengo a dire quella della biblioteca della scuola 4 novembre perché insomma ci stiamo un po' tutti adoperando anche per aiutare soprattutto loro Allora non ci resta che scoprire a che ore sarà il taglio del nastro e la durata intera dell'evento Sì l'evento si svolgerà domenica 22 maggio dalle 9 del mattino fino alla sera alle 6, le 7 ci sarà un momento ufficiale con le istituzioni e appunto noi promotori, soggetti promotori tutte le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell'evento alle ore 11 in Piazza Arismondo questa iniziativa non sarà la conclusione dei progetti che appunto abbiamo sviluppato in questi anni che hanno portato tante risorse e opportunità di formazione, inclusione e partecipazione sia per le scuole che per la cittadinanza e le associazioni ma è proprio rilanciare un lavoro comunitario di appunto collaborazione per sviluppare sempre più possibilità di vivere in contesti coesi e inclusivi come quelli che sono quelli di Saione e la città di Arezzo Allora grazie a Delisa Carboni responsabile dei progetti educativi inclusivi dei programmi di Oxfam Italia grazie a Silvia Ciarpaglini direttrice artistica di Saione Mob grazie anche a Valeria Alvisi di Confeserci Antiarezzo la direttrice di Confeserci Antiarezzo noi quindi vi diamo appuntamento a Saione Mob domenica 22 maggio a partire dalle 11 ma anche prima però le 11 è l'orario dell'inaugurazione vi ringraziamo per aver seguito Spunti e Spuntini Weekend adesso linea alla nostra regia perché vi aspetta il meglio di della nostra settimana di Spunti e Spuntini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti